C'è anche il ponte della becca fra le opere incluse nel contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS appena presentato in regione con riguardo in particolare alle opere lombarde. Per la nuova becca il Ministero metterà a bilancio esattamente 168 milioni e 750 mila euro. 169 e mezzo sono invece i milioni già segnati per la tratta C del collegamento fra Vigevano e Albairate per la quale è in corso la gara d'appalto 184 milioni e infine il costo della tratta A fra Albairate e Magenta che sarebbe finanziata in gran parte con la proposta nella legge di bilancio 2024. L'inserimento delle opere nel contratto ANAS ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Claudia Terzi rappresenta una garanzia rispetto al reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione diverse opere sono già state finanziate appaltate altre lo saranno da qui ai prossimi anni. Ha concluso in totale il contratto di programma in Lombardia comprende investimenti in nuove infrastrutture viabilistiche per 319 milioni di euro e 120 milioni per la manutenzione dell'esistente. Questi dunque i numeri generali relativi alla nostra regione contenuti nel contratto di programma tra ANAS e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presentato oggi a Palazzo Lombardia dal presidente Fontana, dall'assessore regionale Terzi e dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Complessivamente sono 19 le nuove opere stradali inserite nel contratto. Una grande soddisfazione che dà un po' l'idea anche della collaborazione che con ANAS da qualche anno e da un po' di anni insomma si realizza anche nella gestione di opere un pochettino più complesse. Una su tutte la Vigevano Malpensa.